No! Sonic! Sonic! No! No! Sonic! Stavo scherzando! Cosa succederebbe se uniamo Boldy, Sonic e Five Nights at Freddy's? Questo! So che per adesso non vi dice molto, ma... Eh sì, è un gioco un po' strano, un po' infame. Proviamolo. Ok. Ragazzi, ci hanno hackerato il computer, è pieno di virus, e devo scrivere alcune parole. Finale, imbal. Ma dove sono? Sono in un ufficio. Fammi vedere. Salve! Ehi, capo! Ehi, capo! Che stai facendoli? Abbiamo bisogno di problemi qui! Ho un Trotan nel computer, un figlio di Trotan! Ho un cavolo di virus! Come cancellare il Sonic.exe virus? Praticamente il virus di Sonic ci ha trollato. Non voglio il virus di Sonic! Devo usare tutti i codici per... Ria che era femmina, female, parable, pizza, practice, sonic, segnale... Sei troppo lento! Cosa? Non posso più! Sticky, dramatic, password... Gioca con me, gioca con me! No! Mi sta trollando! No! Non posso... Sono costretto ad aprire il file. Sono costretto. Ero costretto... Oh! Oh! Johnny, che è successo? Ammazzato... Ammazzato Johnny! Ammazzato Johnny! Ammazzato Johnny! Che è stato? Aspetta... Oh, no! Sonic! No! È Sonic.exe! È entrato nel mio figlio! Sonic! No! 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 Sono morti tutti! Sì! Santo cielo! E i PC sono pieni di virus! Fammi vedere... Tutti i PC sono distrutti? Devo fare qualcosa? Qui c'è qualcosa! Ma Sonic sta arrivando! Devo fare in fretta! Forse devo... Devo scrivere delle cose... Pretti! Ok! Ho sbloccato una password! Bellino! Bello password! E poi è... Past! Sonic fermo! Fermo! Devo scrivere... Fate... No! No! E Sonic mi ha mangiato! Trickster! Trickster! Fatto! Mamma mia! Pure al contrario! Sto diventando bravissimo! Fammi andare qui! L'ho aperto! Dove sono finito? Dove sono finito? Ma sto giocando a ball di Sonic Basic! Regole della scuola? Non correre per la scuola, ovviamente! Fai bene i test! E si un buono studente! Non rompere le regole di Sonic! Ma cosa sto giocando? C'è anche una sporta segreta? Aiutatemi! Il vero Sonic! Non entrare negli anelli di Sonic! Non prenderli! Ma ragazzi cos'è? Ma è ball di Basic! Sonic Basic! Ok! Allora... La matematica! No! Ehi! Mi ha messo in detenzione! C'è praticamente quello là che non mi fa correre nei corridoi puri qua! Oh mannaggia! Va bene, va bene! Non corro più! Promesso! Allora! Andiamo a leggere intanto! Posso leggere? No! È chiuso! Sto dannato i popotamo! Matematica! Sì! Sta dando i numeri! È pieno di numeri! Che ci devo fare qui? Cosa avviene dopo l'otto? Sonic! Non guardarmi così! Non sono un idiota! Dopo l'otto viene il nove! Vieni qua nove! L'ho ucciso! Devo scriverlo? Sì! Il nove! Bambino intelligente! Si è aperta una porta! Sonic se n'è andato per di qua! Cosa avviene dopo il cinque? Il... Sei! Aspetta, devo andare a ammazzare un po' di sei! Allora, un ragno! Perché un ragno? Andiamo ad ammazzare il sei! Ammazziamo! Ah! Ok, ho ucciso il sei! Quindi cosa avviene dopo il cinque? Il sei! Yeah! Ma secondo me si incacchia tra poco! Guarda Sonic come è impaziente! Sette più cinque! Sette... 8, 9, 10, 11... 12! Ma il 12 non esiste! Cosa devo fare fuori? L'1 e il 2? Faccio fuori un 1? E poi il 2? Così ho il 12? Ma è ovvio! No! Io volevo il 12! Sonic? No! Sonic! No! Non voglio quel righello! Non voglio il tuo righello! No! Son... Sonic! Sonic! No! No! Sonic! Stavo scherzando! Stavo scherzando! Voglio uscire da questa scuola! Mi fa ansia! Compagni, non vedete che ho un pazzo? Aiuta! Sono solo cartelloni! Sono solo cartelloni! C'è un altro Sonic! Cos'è? Perché ci sono troppi Sonic qui? Reading! Reading devo andare! Lui ha detto facciamo del reading! Quindi reading è questo! Capirgli... Cioè io devo fare tutto questo? Con lui che mi trolla? Mi stai dicendo questo? Devo fare tutto velocemente mentre c'è Sonic dietro alle chiappette? Oh! Santo cielo! Trova l'astronauta! Suss! Oh cavolo! Oh cavolo! Però Sonic è molto vicino! Sei buono il dannatore in oceano te! Se non ci fosse lui sarebbe anche facile! L'ho trovato! Ho trovato l'astronauta! Sonic Rellino! Ho trovato l'astronauta! Sììì! Oh! Oh! Grazie! Beh è meglio così! Mi hai salvato il sedere! Mi hai salvato il sedere! Fammi uscire! Fammi... Che devo fare qui? Ok! Ok! Muoviti! Qua gli anelli non posso andare! Dai! Non così Sonic! Non così Sonic! Torniamo al reading! Vediamo! Magari ho missato qualcosa! Devo trovare altre robe! Trova la sedia! Troviamo la sedia! C'era la sedia! E l'amarò adesso! L'ho trovata! Come no! Come? Io avevo preso la tua cacchia di sedia! Mi hai chiesto una sedia! La fai apposta! Ora facciamo ancora della matematica! Oh cavolo! Allora usciamo! Devo fare altra matematica! Non lo so! Questa? Ancora? Dividere per zero! Perché non vuoi morire? Dividere... Non si può dividere per zero Sonic! Dove hai... Dove hai imparato ste robe? Non so cosa intenda dividere per zero! Però in realtà lo zero è un anello di Sonic! Non è che devo andarmi a prendere un anello! Oh cacchio! Dai fammi uscire! Per un pelo! Sì! 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 Sonic! Sonic Barbonic! Ho trovato l'anello! Lo posso correre quanto voglio in teoria! Non verrà mai quel pi... Ooooooh! Che succede? Ho fatto arrabbiare tutto! È tutto punto ex! Non capisco più niente! No Sonic! No Sonic! No! E vabbè! No no adesso devo... Corro fuori! Corro fuori! Corro fuori! Gotta go first! Vai via Sonic! Ti vederà per zero! Prendilo! Ancora! Ancora! Dividi, 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 dividi! Basta! Che devo fare? Spelling? Devo fare lo spelling? Cos'è lo spelling? Cos'è? Oh no! Di nuovo qua! Verdict! Se l'ho fatta! Oh! Sì, me ne sono andato al programma! Sono in un altro gioco! Cos'è? Freddy? Sei tu? Animatronici di Sonic! Stai attento alle telecamere! Attento al nostro amico robot! A loro piace andare in giro! Così proprio con le persone! Devo chiudere le porte in faccia! Ci sono delle porte! Oh no! Quindi posso andare in giro! Se ne è appena andato in giro! L'animatronico che era qui! Posso andare in giro anch'io? Fammi un attimo vedere cosa sto facendo! Porca vacca! È un Sonic robotico! No! Mi sono chiuso fuori! Mi ha succhiato l'anima! Devo rifare! Allora! Cioè, questo gioco è Baldi! Five Nights at Freddy's! È troppi giochi in un solo Sonic! Eccolo qua che si sta muovendo! Io sono! Un dio! Mi ha tolto le telecamere! No! Non i tuoi virus di Melmatz! Probabilmente devo chiudere le porte! Dov'è Sonic? Ce n'è uno qua! Per adesso c'è solo uno! Oh! E là c'è Knuckle! Ma devo rimanere qui? Avete! Manca poco alle quattro! Devo solo resistere! Togliamo i virus! Ok! Oh! Chiuso! Pezzente! Pezzente! Ok! È tornato indietro! È tornato indietro! Bene! Sto pezzente figlio di una brava... Di una brava niente! Oh! No! Trappasse le pa... E io scappo! L'ho chiuso fuori! L'ho chiuso dentro! No! 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 Vabbè io devo durare fino alle quattro! No! Bababimba! 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 No! Il virus non lo voglio! Tre minuti! Tre minuti! Daglie! Tre minuti! Daglie! Boni! Hai due minuti e cinquanta! Ormai smurfare è facile! Basta solo guardare le porte e ogni tanto si arriva il virus! Vedi? Uno qui! Ok! Andato! Tanto non credo... Oh! C'era un virus! Via! Aspetta chiuso! Ottimo! Qua c'è un altro! Non aprirti porta! Bene! Bene! Dai solo due minuti! Si farà più difficile! Vorrei star lì a guardare le telecamere! Ma è molto meglio... Che guardo anche Sonic! Perché con Sonic non ci sono paragoni! Ok! Questo è andato! Mi sta arrivando un altro! Uno nero pure! Ma quanti sono? Ops! Ero un avventuriero come te! Mi sono buscato un Sonic nel ginocchio! E anche a tutta velocità! C'era un altro qui! Uuuu! No! È arrivato anche il riccio rosso! L'ho visto sulle telecamere! Attentissimi adesso! Perché gli ultimi 40 secondi... Sono i peggiori! Due a... Due in uno? Non ci credo! Non ci credo! Quattro! Tre, due, uno! Vai! Sì! Che succede? Aspetta! 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 Ma non potevo fare niente! E mi ha ucciso comunque! Grazie per aver giocato! Niente! Non c'è uscita! Non c'è via d'uscita! Uh! Bello, bello, dai! Insomma, grazie per aver giocato! Però è stato veramente disidratante come gioco! Come tutti quei giochi in stile Baldi! Però un bel miscuglio di tutto! Sicuramente qualcosa di innovativo sotto il piatto! Più giochi così! Mi è piaciuto il connubio! Magari ne vedremo altre delle belle! Per questo episodio comunque mi fermo qua! Spero vi sia piaciuto! E ci vediamo alla prossima! Ciao ragazzi!